buongiorno e benvenuti cari amici a questa quarta domenica di quaresima che la liturgia chiama anche domenica in letare domenica della gioia e qualcuno potrebbe dire beh non è che c'è granché da divertirsi in questo periodo e quindi forse può essere considerata inopportuna questa domenica ma cercheremo di capire che non è così e ho voluto proprio come ambientazione di questo commento che durerà un po più di tre minuti è anche domenica ho voluto questa sede che è un'altra aula della nostra scuola ed è dove i ragazzi attraverso delle macchine utensili trasformano dei pezzi che ho portato anche per farvi vedere dei pezzi generici ecco qua qui abbiamo un cilindro e qui abbiamo un altro pezzo grezzo praticamente un parallelepipedo per usare un termine e attraverso queste macchine e l'insegnamento dei loro docenti li trasformano in pezzi che sono come vedete anche se ecco le telecamere non sono poi così buone ma insomma ci fanno capire come da un pezzo grezzo possiamo ricavare un utensile e anche di altra alta precisione e come mai questa digressione diciamo perché nel mangiare di oggi Gesù in un certo senso fa la stessa cosa si trova un cieco e che gli chiede guarigione a differenza di altri casi come con i lebrosi che addirittura guardandoli li rimanda ai sacerdoti e questi lungo la strada si incontrano guariti addirittura uno solo tornerà indietro a ringraziarlo tra l'altro un samaritano o come quella bambina che era morta e che in molti piangevano questa tragedia e questa precoce morte Gesù prendendola per mano talità cum ragazzina alzati e questa ritorna in vita miracoli fatti potremmo dire molto velocemente senza particolari riti a differenza dell'incontro che oggi ha Gesù con il cieco Gesù prende della terra con la saliva la trasforma in fango pone questo fango sugli occhi del cieco e poi lo manda a lavarsi nella piscina di Siloe e lì tutti si accorgeranno lui per primo di essere passato dall'oscurità alla luce dalla cecità alla vista come vedete anche Gesù prende come dio all'origine no del fango e plasma una sorta di farmaco una sorta di medicina per quegli occhi in quel gesto probabilmente vuole riplasmare non solo gli occhi ma l'intera persona e io penso che questa situazione che noi stiamo vivendo da papà francese fino all'ultima persona ricoverata in un ospedale ci sta riplasmando ci sta trasformando e noi abbiamo due strade che si aprono quella della disperazione o quella della fiducia quella disperazione sappiamo già dove porta è il gioco del virus è il gioco della morte e di tutti i contagi di male l'altra strada quella della fiducia del lasciarci plasmare da chi ci vuole bene e questo avviene perché perché c'è chi accanto a noi ci prepara da mangiare in quei gesti cosa mostra mostra che ci sta donando del suo amore o c'è chi si preoccupa di portare i beni di prima necessità e di non fare speculazione c'è chi negli ospedali nelle case di riposo a rischio della vita o del contagio continua a fare del bene io penso che se vogliamo prendere la via della gioia questa può essere una domenica della gioia dipende probabilmente dai nostri occhi lasciamoci plasmare dal signore